La confisca di beni per 4 milioni di euro riguarda il 49enne Salvatore Cascino e comprende anche una lussuosa struttura agrovenatoria di Piazza Armerina, con una riserva di caccia di 30 ettari. Oltre ad un ristorante, 7 residenze con caseggiati risalenti all'800, 74 beni immobili, quote societari, autoveicoli e rapporti bancari. Il fiscalista nel settembre del 2010 fu condannato per associazione per delinquere, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite e compensazioni tributarie. Gli accertamenti delegati alla DIA, adesso sfociati nella confisca, accertarono una evidente sproporzione tra il tenore di vita di Cascino e gli esigui redditi dichiarati. Per gli investigatori, i soldi guadagnati con attività illecite venivano reinvestiti nel settore turistico alberghiero.